Si sono vissuti attimi di panico sabato scorso sulla provinciale numero 6, la strada che collega San Cataldo alla zona industriale. Improvvisamente uno sciame d'api ha praticamente invaso l'arteria stradale e un uomo a bordo del suo scooter è andato a sbattere contro un'altra auto. Le api hanno assalito anche altre persone, molte delle quali avevano il finestrino aperto, e si è scatenato il panico, visto il numero di insetti e anche la paura da parte delle persone di poter subire uno shock anafilattico. In tanti infatti non possono sapere se soffrono o meno di allergia. Sei persone alla fine sono state accompagnate al pronto soccorso per essere visitate, ma non si sono registrate conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a scacciare gli insetti.